intanto benvenuto rompiamo il ghiaccio finalmente si torna a parlare di calcio sì finalmente dai aspettavamo da un po' questo momento non vediamo l'ora di iniziare e speriamo sei stato già protagonista qui a rimini con una maglia diversa qualche stagione fa arrivi da diverse stagioni dove sei andato in doppia cifra allora ti chiedo di presentare il casolla in versione 2020 rispetto a quello che avevamo conosciuto nel 2010 le tue caratteristiche sì dai finalmente sono riuscito a tornare a rimini spero di ripetermi sicuramente darò sempre il massimo sono una seconda punta però mi piace fare gol quindi spero di ripetermi come negli anni passati dai in città si parla di un possibile giorno di girone f però a prescindere dal girone il rimini deve essere protagonista sei d'accordo ti ripeto non so in che girone in che girone ci metteranno però come sappiamo qui a rimini bisogna vincere speriamo di riuscirci noi daremo sempre il massimo in campo e vediamo a fine dell'anno dove arriviamo infine cosa ti senti di promettere tifosi e un saluto da da parte tua no i tifosi dico che darò sempre il massimo in campo e spero di ripetere spero di ripetermi a livello realizzativo e faccio un saluto ai tifosi del rimini e speriamo di vederci presto allo stadio ma se ti lei a matelica ha vinto un campionato un signor girone come girone f di serie d davanti a un super quotato campo basso e cosa si aspetta da rimini in questa stagione allora sicuramente dopo l'annata passata che abbiamo vinto il campionato è stata una grande annata e da rimini mi aspetto lo stesso campionato diciamo voglio di far bene di rimettermi in gioco e cercare di salire con rimini le referenze raccolte sul suo conto mi portano a una semplice analisi un giocatore molto duttile allora in un possibile 352 di masto nicola dove potremmo vedere la sua presenza sì allora io sono un giocatore che duttile sicuramente perché in questi anni ho fatto più ruoli il mio il mister il direttore mi vedono come mezzala sono giocatore che si inserisce tira in porta abbastanza spesso e quindi niente spero di far bene infine se il rimini dovesse essere inserito nel girone f lei che ha avuto l'occasione di farlo nell'ultima stagione che tipo di girone si troverà ad affrontare il rimini sicuramente sarà un bel girone sono molte squadre che lottano per vincere il campionato e sicuramente noi ci metteremo in gioco e non abbiamo paura di nulla marco ghetti ben ritrovato sei stato protagonista nei nostri articoli di sport up chiedo in attesa appunto dell'ufficialità dell'organigramma quale ruolo occuperai nella rimini calcio salve a tutti marco ghetti io andrò a coaduivare la direzione generale assieme a antonello san marco quindi mi occuperò a tutto tondo di della gestione della società assieme a san marco regole ferre quelle del covid 19 che impongono atto l'assenza della tifoseria nell'assistera dei primi allenamenti della squadra di marco nicola spieghiamo un attimo la situazione per informare anche la tifoseria bianco rossa allora ad oggi ci sono dei protocolli ristretti per quanto riguarda il discorso dalla norma covid quindi comune regione e stato danno delle linee guida le stiamo rispettando in toto e per questo mi scuso con chi vorrebbe presenziare agli allenamenti ma in questo momento è un discorso a porte chiuse e restrittivo speriamo che la situazione migliori e dare disponibilità a tutti di poter vedere gli allenamenti in diretta della del nuovo rimini calcio di questa nuova squadra di questa nuova situazione ancora una volta cambia la società ma c'è il solito problema delle strutture so che vi state muovendo nei dintorni di rimini qualche settimana fa abbiamo parlato anche con san marco le strutture indicate sarebbero quelle di bordonchio per iniziare a dare una dimora fissa alla prima squadra so che vi state muovendo anche per dare delle strutture dell'impiantistica a livello di settore giovanile sì questo è un problema che c'è sempre stato su su rimini perché le strutture sono sono tante le società e le strutture sono tutte in overbooking però devo ringraziare all'amministrazione che ha dato mia massima disponibilità stiamo lavorando e conto che troveremo una soluzione per per rimini e per il suo settore giovanile quindi sono propositivo settimana avete sciolto il rebus legato al responsabile del settore giovanile sappiamo tutti che ivano bonetti ecco vi state muovendo anche per chiamare i ragazzi le relative famiglie per fare in modo che finalmente anche per quanto riguarda il settore più delicato di una squadra di calcio ci sia la possibilità finalmente dopo le vicissitudini societari di tornare a parlare di calcio giocato ivano bonetti è il nuovo nuovo acquisto per quanto riguarda il settore giovanile quindi responsabile del settore stiamo lavorando dalla prossima settimana incontreremo tutte le famiglie quindi i ragazzi alle famiglie di ragazzi che erano all'interno delle rose dei dei bambini andremo sicuramente a inserirne a inserirne alti partirà il 2008 quindi c'è tanto tanto a voglia di è